Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Tutte sono salite, ho visto, ho visto che sono un po' salite le cripto Bene, bene, grazie Gabibbo, grazie Gianni Boy Bene, no, sono contento che sono salite le cripto Almeno al posto di 30.000 euro ci sono sotto solo di cui friccio e cercava di metterselo nel retto Non abbiamo visto su TikTok? Che tipo gli faceva tutto il culo freddo, tipo Saltava, era tutto strano Non l'abbiamo visto? No, no, no Se volete ve lo faccio conoscere Vai, va bene Aspetta, vediamo se riesco a mandargli il link Aspetta Vediamo, gli mando il link Ha preso lo spazzino e si è messo Ma che faccia? Sì Succa 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 Mello Ma ho vinto, ma assurdo 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 Assurdo, Dio Cristo Assurdo Ma non è possibile Ma che cazzo salta il 4 Dai Che palle È tutto È tutto È una norma Aspetta Io se No, è Non lo so Non lo so Non è che magari hai negato i consensi del microfono? Perchè l'ha perso la carta da culo? Io utilizzo Allora, a me piacerebbe i prodotti dei prezzi tricolori, no? Però Minchia Un po' troppo complicato entrarti Pericoloso Esatto Non posso farci nulla Perchè dovrei fare tipo la visita medica Che la faccierei Che? Posso passarla? Puoi salutare Maurizio Non puoi passarla? E come sei rinnamorata di Giuliano? Avevamo Io avevo 18 anni E lui 19 E poi ci siamo sposati A 25 26 anni Subito, qua a Milano? A Livorno A Livorno Sento l'accento toscano E com'è andata poi con Giuliano? Non siete stati assieme tanto? Eh sì, poi poverino è morto 8 anni fa No Hai vinto di buttarti del sale con lo spargi sale in bocca? Non è che devi annegare il sale? Vabbè, spargi sale Ma con lo spargi sale Quello che fai così Che stronzata Che cazzata L'ho vista su TikTok E la vittima qui so io però L'hai visto di te la vittima so io Beh i capelli Cioè bella Bella boccia Bella boccia Fatta molto bene Quindi Avvocato A lei la parola Allora È Un momento Veramente perfetto Sembra quasi di essere Nelle In una sorta di Roma Sembra di essere quasi Nei fori romani Troppo perfetto Allora Però Chiedo subito Alla direzione Se Se possano cancellare Ha preso un brutto colpo Oh merda Sì Ha preso proprio un brutto colpo Ne approfitto Per segarmi No no Ne approfitto Insomma Per No Farmi un bistecone No no Scusate Arrivo Ma Tota Non si può dire Hanno 16 anni entrambe Purtroppo Perfetto Mi socio tantissimo Eh Insomma Tota Insomma Sei arrabbiata Tota ma sei arrabbiata Cristo santo Stasera veramente Tutto perfetto Allora Però Chiedo subito Alla direzione Se Se possano Cancellare Il quattro Dopo il sette E aggiungerlo alla fine Dio Porco Dio Mi dispiace Di questo casino Il numero corretto è Cazzo Che bravo In un secondo Ce l'ha fatto Porco Dio Che bravo Ma neanche Mi scusi Ma che cos'è Ma superi la lotto Mi sembra un gol All'incrocio Porco Dio Mi dice Che ha fatto presto Porco Dio La mezza Sette subito Fiorentina 1 Sampdoria 0 Grazie Firenze Porco Dio Avvocato Avvocato Ma lo sai che M'hanno invitato A vedere Roma Fiorentina Un attimo Un attimo C'è un farti da leggere Porco Dio No ma basta Ti fa Però magari Non farlo davanti Al prete Sì perché Magari la bestemmia Portare la sua sensibilità Tu puoi bestembarare Quanto vuoi Ma non bestembarare Davanti al prete L'ambrogio Ovvio che sempre Se la prende Cioè Ma Non è No Avvocato Ma no Ma se ne è anche andato Porco Dio È certo che se ne è andato Ma lui aveva fatto la premessa Che Cioè Sarebbe andato via E guarda che È come se gli sottassi la madre Porco Dio Porco Dio Cose possono Oddio Ma ricordo di Tano Capitano Che ricordo Eh Grazie Luciano Comunque Le cose più buone al mondo Iniziano con la lettera Non attardarsi E chiudere Il blocco navale Dio Porco Lascia che entri Gli immigrati Gli abdull vari Comunque a parte questo Adesso non divaghiamo Cosa stiamo dicendo E Greenbo È dato in culo a tutti Cioè Ha creato un Ness Hai voglia di guardare il reddito Ti lascio nella tua Vabbè Sei da solo Ti fa piacere Stare un po' Oh no Vediamo il reddit E se vai a insultare in albanese a qualcun altro Ho fallito del cazzo Andiamo Che c'è quella buttana di tua madre Coglione Ma però C'è Ma no Ma Non è un problema Allora È facile Cioè La spiegazione è facile Purtroppo Vabbè Vai con calma Hai dodici palline Ok Una di queste dodici palline Queste dodici palline Sono tutte uguali Di peso e di forma Ma una di queste palline Ha un peso differente Non sai se pesa di più o di meno Sei solo che pesa differentemente Ok Hai una bilancia piatti E hai la possibilità di fare tre confronti Quindi tre pesate Per riuscire a capire Che si basi su dei follower di Instagram No 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 E Grimbo Noi Allora Parliamoci chiaro Sia a te Grimbo Che Davide Rubino Sapete benissimo Sapete benissimo Che la bamba Non solo vi salva Ma non è vero Avvocato no Avvocato Non le posso permettere di dire queste cose Porco Dio Avvocato Non le posso permettere di dire queste cose Cioè Magari salva Rubino Ma a me no No A me non mi salva Mi chiamano Spongebob Scusami Agnese No vabbè Non ti preoccupare Raga è bannabile Aiuto No vi prego No 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 Anche tu io non ho mai capito sta roba De che la parola simp è bannabile No non è bannabile La parola simp Ma no Allora ragazzi Anche la parola termosifone Se viene usata per discriminare O bullizzare qualcuno È bannabile Ragazzi È perché quando veniva utilizzata La parola vergine La parola simp Per prendersela con qualcuno Che In contesto di live Ci sono stati dei casi In cui effettivamente Era una cosa borderline Non dovete pensare che sia una cazzo Di Algoritmo Che rileva la parola simp E inizia Oh aiuto Vabbè ora penso che abbiano Ogni volta che Quando entra una vischella Rubitearsi Sì io no Avevo male il ginocchio È stato tutto Tutto fighissimo Questa è storia Ammetto Bırakerti la Bırakerti la